Mi chiamo Matteo Ferrari, sono un fotografo e un surfista, da poco anche filmmaker. Vi vorrei parlare di un progetto che è iniziato circa un anno fa. Un giorno incontrai un amico, Luca Merli, per strada. Luca nella conversazione mi disse perché non facciamo un film sul surf in Italia. Luca è un filmmaker, ha già esperienza, ha già realizzato dei film di snowboard, dei video musicali, delle pubblicità. Io faccio osservare da tanti anni, quello di realizzare film era sempre stato un sogno, che però non era mai arrivato vicino a concretizzarsi. Io gli risposi che ci potevamo pensare. È passato appunto poco più di un anno e settimana scorsa abbiamo finito il montaggio e il film sarà pronto per settembre, la prima dovrebbe essere il 17 di settembre. Prima di mostrarvi delle immagini del film, volevo parlarvi un pochettino del surf in Italia e in particolare sfatare alcuni miti sul surf in Italia. Il primo mito è proprio il fatto che non si possa fare surf in Italia. Poca gente è a conoscenza del fatto che invece si può praticare questo sport. Noi ci abbiamo anche fatto un film per cui direi che si può fare. In realtà ci sono molti posti in Italia, quasi tutte le coste italiane si possono trovare degli spot adatti alla pratica del surf. È ancora uno sport abbastanza giovane che è andato senz'altro crescendo anche per via di fenomeni di moda, di film americani. Però questi film hanno creato degli stereotipi che sono molto lontani dalla realtà del surf in Italia. Un altro dei miti che hanno creato questi film sul surf è che siano necessarie grandi onde per fare surf. In realtà il pane quotidiano dei surfisti in Italia, ma non solo in Italia, sono onde piccole. Le onde grandi sono dei fenomeni abbastanza eccezionali. Però vedrete anche nelle immagini che ci si può divertire molto anche su onde piccole. Non è necessario che le onde siano grandi. Un altro paio di cose sul film che volevo dirvi è che abbiamo scelto di girare quasi esclusivamente in pellicola. Soprattutto in 16 mm, qualcosa in super 8. Abbiamo limitato l'uso del digitale alle riprese dall'acqua che sono comunque abbastanza poche nell'insieme del film. C'è un'altra cosa che vorrei dire sul surf che mi sembra molto particolare e che spiega anche il fatto che sì, in Italia si può fare surf, ma non è così facile. Ci vuole molta pazienza, ci vuole molta dedizione, molto impegno. E nonostante questo i praticanti sono tanti e sono molto appassionati. La particolarità del surf è che il grado di soddisfazione dato dal prendere un'onda è talmente alto che bastano pochi secondi, in realtà uno passa pochi secondi sull'onda rispetto all'impegno complessivo per andare a fare surf e nonostante quello a volte basta un'onda nell'arco di una giornata e uno se ne torna a casa contento, anche se magari ha fatto un viaggio lungo, anche se magari le cinque volte precedenti non ha trovato buone condizioni. Avete visto un estratto di alcune immagini del film, in realtà è abbastanza diverso da quello che sarà il film alla fine. Questo è un montaggio fatto ad hoc per Ted, però spero che renda la sensazione di quello che abbiamo voluto trasmettere. Un altro piccolo mito da sfatare, e che anche questo è stato un po' perpetrato da alcuni film americani, è il mito della ricerca dell'onda perfetta. In realtà non è l'obiettivo di nessun surfista, si cercano senz'altro le condizioni migliori, si vanno sempre a cercare le onde più belle possibili, però non esiste questa ricerca infinita di un'onda perfetta che in realtà non esiste, le onde possono essere molto diverse, molto belle e molto divertenti in una grande varietà di condizioni. Vorrei concludere facendo un'osservazione sul fortissimo legame che l'Italia ha sempre avuto con il mare, dai romani ai grandi navigatori, e anche più di recente a persone come Fogar o Soldini o Pellizzari, che sono ciascuno nel proprio campo, hanno portato la loro passione per il mare a realizzare qualcosa di eccezionale. Io penso che il surf, pur essendo giovane in Italia, abbia tutte le caratteristiche per inserirsi in questa tradizione e questo forte legame che l'Italia e gli italiani hanno con il mare Mediterraneo. Grazie.